7 aprile Perciò Gesù disse ai 12 Non volete andarvene anche voi? Giovanni 6, 67 Liberi di scegliere Gesù ci lascia liberi di scegliere Decisioni e comportamenti sono il diretto risultato delle nostre scelte In Cristo c'è la libertà di intraprendere qualsiasi via vogliamo seguire Quella del bene o quella del male Dio, in Cristo Gesù, per mezzo della Sacra Scrittura e tramite lo Spirito Santo Ci invita a scegliere da quale parte vogliamo stare Ci invita a stare con Lui, ma anche ad andare via da Lui Se questo è quello che vogliamo Inoltre tutta la Bibbia ci mette in guardia su quelle che sono le strade che conducono alla perdizione eterna E ci indica l'unica strada che ci porta a godere per l'eternità dei beni che Gesù ha preparato per noi Il nostro problema maggiore è non capire quanto siano preziosi beni celesti Non li possiamo vedere, ma per fede ci crediamo Non incorriamo nell'errore di sottovalutarli Perché probabilmente quando ce ne accorgeremo sarà troppo tardi per correre ai ripari Rivolgiamoci al Signore e rimaniamo vicino a Lui in ogni frangente e momento della nostra vita Rivolgiamoci al Signore e rimaniamo vicino a Lui in ogni francese